Per ottenere l'affidamento di Deborah, la mia prima figlia, ho lottato tantissimo. Poi chiesi a Pietro Nenni di cambiare la legge sul diritto familiare e lui, che era un uomo di grande sensibilità, recuperò un vecchio progetto di legge e lo fece votare. Io ero in clinica perché avevo preso un sacco di botte da Maurice Sergas e proprio in quel momento mi arrivò un biglietto che diceva Gentile signora, in questo momento si sta votando un progetto per la riforma del diritto familiare. Come tutte le leggi è un compromesso, ma è pur sempre una legge. Suo Pietro Nenni